ciao a tutti subito pronti per continuare questa scalata il mio avversario attuale 2215 punti quindi ci avviamo verso una soglia elo in cui i giocatori hanno già delle ottime conoscenze sono giocatori che probabilmente hanno fatto tanta pratica in torneo e quindi sanno al meglio e conoscono diverse sequenze di mosse, nozioni di apertura, nozioni tattiche eccetera ok il mio avversario ha deciso di impostare l'apertura inglese a questo punto io gioco con questo schema e il mio obiettivo è cercare di controllare la casa di 4 con questa sequenza di mosse sono anche in grado di fare una prematura o comunque immediata spinta in f5 cosa che mi aiuta per sviluppare successivamente il cavallo in f6 e il più delle volte comunque come in altre aperture tipo l'est indiana è abbastanza frequente che un giocatore sviluppa il cavallo in f6 poi sposta il cavallo, spinge il pedone in f e quindi con questa sequenza di mosse ha anticipato quella strategia con un tempo in più ok mi propone il cambio dell'alfiere, non posso evitarlo allora che me lo cambi lateralmente così porto un pedone verso il centro qual è la strategia del nero? la mia catena pedonale, la mia freccia punta il suo re, il suo lato di re e quindi dovrei cercare di portare i pedoni proprio verso quel lato e a tal proposito a volte potrei avere l'idea di giocare f4 è ancora presto per giocare f4, non so bene cosa voglia fare lui però magari giocherò f4 quando altri pezzi saranno pronti per supportare l'attacco quindi la donna potrebbe andare in g6 e penso che la donna sia proprio arrivata il momento in cui vada in g6 oppure, beh qui non è interessante, cavallo d4 per cercare di prendere il suo alfiere e prendere il suo alfiere potrebbe aiutarmi l'attacco sulle case bianche perché a questo punto io chiudo e immagino che da parte sua l'apertura del centro possa essere importante quindi se lui vuole aprire il centro io provo a chiuderlo io ho tolto questa possibilità adesso tutti i miei pezzi vanno contro il suo lato di re vediamo se ci riesco g5, tematica, voglio fare g4 vediamo chi sarà più veloce forse cavallo b5 potrebbe rallentare un po' il mio attacco ed effettivamente cavallo b5 mi obbliga a difendere il pedone d6 e soprattutto l'ingresso in c7 quindi direi che donna e7 riesce in questo la prossima alfiere d7 quindi se posso lo rimuovo e successivamente continuo la mia manovra verso il suo re donna f2 ho spostato il mio re per lasciare la casa libera alla torre piano abbastanza tipico dell'est indiana che anche in questa sequenza di mosse trova il suo perché alfiere d7 voglio eliminare il cavallo l'eliminazione del cavallo è già possibile non è da escludere magari la posso migliorare forse un torre g8 torre g8 non mi dispiace miglioramento della torre probabilmente questa torre mi serve in attacco qualcosa del genere per poi aprire la colonna g da parte sua solitamente un attacco laterale cosa che sto cercando di impostare sul suo lato di re sul suo lato di re corrisponde una reazione centrale la spinta in d4 qui come abbiamo visto non è possibile allora vediamo un po' perché lui potrebbe a volte minacciare questa sequenza quindi gioco torre g6 se cavallo c7 come annunciato raddoppio e a volte questa torre in modo meno visibile potrebbe andare in h6 quindi sono piani e schemi che controllo che conosco perché sono idee di apertura che ho abbastanza approfondito nel tempo ok g3 questo è il momento in cui il mio avversario riconosce che sta peggio riconosce che la sua posizione è molto difficile e quindi questo lo costringe a a essere a giocare qualcosa di concreto ok raddoppio delle torri tatticamente funziona perché in caso di cattura considero che la spinta g3 sia vincente perché dopo che la mia torre va in g3 ci sarà torre h3 con minaccia di matto se non mi cattura spingo e quindi questa è una posizione abbastanza sotto controllo sono riuscito a portare tutti i pezzi sul lato della scacchiera che mi interessava portare i pezzi sul lato di re e qui l'attacco sembra essere vincente sembra sì essere un attacco vincente forse tatticamente potrebbe provare questa perché aprirà la diagonale ma non è da escludere che dopo la cattura possa catturare io stesso o forse cavallo per d6 ma anche lì non dovrebbe riuscire su cavallo per d6 io spingo il pedone quindi la mia minaccia immediata e la spinta del pedone ok lui si è accorto sposta la torre nella probabilmente nella casa dove dà meno fastidio e a questo punto donna g7 donna g7 sembra molto forte vediamo se donna g7 sarà la mossa che giocherò forse alfiere per prima donna g7 vuole questa mossa vuole torre h6 quindi donna g7 pedone per torre h6 pedone per torre h4 e poi perdo quindi dovrei probabilmente mangiare prima in g2 forse mangio in g2 e sulla cattura riprendo a questo punto merita attenzione cavallo per d6 non l'ha giocata però senz'altro è interessante questa invece mi sembra una mossa perdente perché dovrei riuscire a entrare con con tutti i pezzi in realtà alfiere g4 non la considero già vinta vediamo se mi sfugge qualcosa o se c'è qualcosa di più bello cavallo g4 è più bella cavallo g4 sacrificio di donna con matto cavallo g4 alfiere per è quella che non mi piace perché sul alfiere per altrimenti cavallo g4 seccattura cavallo f2 e torre matto cavallo per e4 alfiere per e5 donna per e5 cavallo g3 va bene non posso pensare troppo alfiere g4 sulla scacchiera torre f1 sarà la sua prossima mossa ok non si è accorto però così entro con tutti i pezzi scacco scacco adesso donna e6 donna d7 otto torre g3 sono tutte mosse che vincono e donna e6 l'obbligo a difendere con la donna è a quel punto matto vediamo un po' cosa propone il computer perché in questo momento vediamo se c'è qualche matto particolare perché pensavo cavallo g4 ok donna g7 donna g7 era un'altra possibilità che stavo considerando ma non la vedevo ops non la vedevo e bene vediamo se cavallo g4 perde no alfiere per cavallo per e su questa comunque si riconosce che c'è matto con cavallo f3 non era così facile da vedere però ok splendida idea si continua sono più vicino al 2007 però la strada è ancora lunga